Per un Genoa ormai condannato, poca gente ammalassi per l'incontro con l'ancor fiduciosa Lazio. I rosso-blu orgogliosamente si battono con ammirevole puntiglio. La Lazio risponde con ariosa manovra che chiama all'azione tutti i suoi attaccanti. Sono in vena di far gioco i ragazzi di Bernardini. Sfugge la balla al portiere, l'azione continua e Piccoli salva con una gran parata. Allo scadere del tempo su contrapiede rosso-blu, Piqué insacca, vince il Genoa 1-0. Nella ripresa la Lazio parte di slancio e un diagonale di Franzini batte il portiere. Siamo 1-1. Esultano i tifosi laziali venuti a Genoa e sono premiati. Un lungo centro da destra e Rozzoni insacca. Lazio 2-1 Genoa. Orgogliosi, il rosso-blu non cedano. In mischia Molino devia nella propria rete. Siamo 2-2. Sul centro di Franzini un difensore tocca la palla con la mano. Si reclama il rigore. L'arbitro concede. Carradori realizza. Lazio 3-2 Genoa 2. Per i tifosi laziali un altro premio. Rodizza di Rozzoni. Gol. Vince la Lazio per 4-2.